20 euro per un pacco vuoto a Venafro ogni giorno decine di cittadini raggirati da sconosciuti che però potrebbero avere le ore contate delle numerose truffe avvenute nell'ultima settimana. Sono già state allertate le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda. Il modo di agire degli impostori sempre lo stesso, nemmeno a dirlo, ad essere presi di mira, soprattutto gli anziani che restano soli in casa. Un palo lancia il segnale di via libera ai complici, così alla porta ecco presentarsi un fantomatico corriere che in alcune occasioni si preannuncia con una telefonata, abbiamo un pacco per suo figlio, deve pagare le spese di consegna, sono in tutto 20 euro. Di fronte alla cifra contenuta in molti non si sono fatti troppe domande e hanno deciso di consegnare i soldi al finto fattorino senza nemmeno avvertire i figli, anche perché la truffa è studiata nei minimi dettagli con tanto di contrassegno e numero di telefono dei diretti interessati indicati sulla confezione. Una volta rientrata in casa l'ignara vittima apre il pacco ed ecco la mara sorpresa, solo fogli di giornale strappati, una truffa che alla fine le è costata 20 euro, pochi rispetto a quanto si sente quotidianamente in tv con anziani raggirati per migliaia di euro. Per questo motivo il malcapitato se ne fa una ragione e spesso decide di non denunciare l'accaduto. Ma quanto sta accadendo a Venafro negli ultimi giorni? È il segnale inequivocabile che in città i truffatori hanno cambiato modo di operare puntando soprattutto sulla quantità, numerosi piccoli colpi da poche decine di euro che a fine giornata moltiplicati per i tentativi andati a buon fine rappresentano comunque un bottino di tutto rispetto.